Buonasera L'anno che si è appena aperto, speriamo bene, avrà sicuramente tra gli argomenti portanti di intelligenza artificiale, tema sul quale lo stesso pontefice Francesco è di recente intervenuto con considerazioni di grande peso. Guardate l'immagine alle mie spalle, quello è il mostro creato dal dottor Frankenstein nel famoso romanzo di Mary Shelley. Siamo nel 1818 e già allora le invenzioni scientifiche che andavano moltiplicando si creavano nello stesso tempo, fiducia e spavento. Lo stesso sta accadendo per l'intelligenza artificiale, ha tanta maggior ragione dati i suoi rapidissimi sviluppi. Allora la domanda è, è giustificata la fiducia? Sono giustificate le paure? È ciò di cui parleremo stasera. Professor Ferraris, buonasera. Buonasera. Grazie di essere qua e di aver accettato il nostro invito. Lei insegna filosofia a Torino e presiede l'istituto che ha un nome glorioso, Scienza Nuova, dove l'Università e il Politecnico di Torino si sono messi insieme per studiare congiuntamente proprio l'argomento di cui parleremo stasera. Vorrei che la nostra conversazione cominciasse mostrandole a lei e ai gentili aspettatori quello che il nostro Riccardo Luna ha scoperto andando a visitare e a girare all'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, dove stanno elaborando. È uno degli istituti d'avanguardia, diciamo, del nostro paese ed europei. E una delle cose che ha scoperto, tra le tante, alcune le mostreremo, è questa che ci mostra il filmato. Se oggi parliamo di intelligenza artificiale, se improvvisamente questa tecnologia sembra essere diventata la grande speranza e contemporaneamente il grande terrore dell'umanità, lo si deve a un particolare filone dell'intelligenza artificiale esploso solo recentemente con il lancio di una particolare applicazione. Il 30 novembre 2022, CiaGBT, si chiama intelligenza artificiale generativa, cioè in grado di generare testi, suoni e immagini con una perfezione molto simile a quella di un essere umano. L'intelligenza artificiale poi è molto presente da tempo nelle guerre, purtroppo, anche con effetti ovviamente letali. Proprio qualche giorno prima dell'inizio dell'ostilità, lo scorso 7 ottobre, le forze armate israeliane avevano ricevuto un velivolo che non si era mai visto prima. Si chiama De Oron ed è una specie di aereo spia dotato di sensori e in grado di raccogliere informazioni in qualunque condizione meteorologica. e grazie all'intelligenza artificiale trasforma queste informazioni in tempi rapidissimi in obiettivi da colpire. Un altro effetto dell'intelligenza artificiale nella guerra, questo sì invece inedito, riguarda la creazione di immagini, quindi l'intelligenza artificiale generativa per creare immagini della guerra che non ci sono mai state. Se guardate questa foto, vedete un signore relativamente giovane che esce, si allontana dalla scena dove c'è stato un bombardamento assieme a cinque bambini. Questa è un'immagine molto impattante, molto forte, ma falsa, cioè generata da un'intelligenza artificiale. Lo si nota da alcuni particolari che l'intelligenza artificiale ancora non è in grado di riprodurre esattamente, in particolare dalle mani e dei piedi che sono sbagliati. Ed è tra l'altro non solo un'immagine sbagliata, è un'immagine anche inutile, perché le vere immagini delle vere divestazioni dei morti, dei bambini morti a Gaza, le hanno fatte davvero dei fotografi a Gaza e quelle sì sono state condivise milioni di volte. Quindi la propaganda di Hamas in questo caso ha completamente sbagliato bersaglio. Questo vuol dire che in pratica non ha avuto nessun effetto su quello che è stata la narrativa della guerra. Potrebbe invece avere un effetto diverso dell'intelligenza artificiale nei prossimi grandi appuntamenti politici, quindi le elezioni europee del prossimo giugno e le elezioni per la presidenza degli Stati Uniti, il prossimo novembre per la Casa Bianca. In quel caso rischiamo davvero di essere travolti da post, da immagini, da video generati da intelligenza artificiale e falsi? È possibile. Caro professore, allora, so che lei ha una visione precisa dell'intelligenza artificiale e ce la verrà esponendo. Ma intanto vorrei cominciare con questo primo approccio, e cioè viviamo in un'epoca in cui la circolazione di notizie false, Dio sa se non è vasta, calunniosa, forviante, in tanti settori della nostra vita, compresa la vita politica, come ha appena detto Riccardo Luna. Lei teme un'intensificazione di queste possibili falsità grazie all'intelligenza artificiale? Beh certo, se ci saranno falsificazioni, queste passeranno necessariamente attraverso l'intelligenza artificiale, ossia la falsificazione, che è una costante dell'essere umano, passa sempre attraverso la tecnologia egemone al momento. Per cui, 30 anni fa, cos'era la grande falsaria? La televisione. Cent'anni fa, quali erano i grandi falsari? I giornali, pensiamo a Balzac e a cosa non ti racconta sui giornali. Fino, tornando indietro, il grande falsario è la scrittura, Platone raccomanda, attenzione, la scrittura può raccontare delle cose false, quindi con questo non voglio minimamente dire che l'intelligenza artificiale non sarà usata in modo maligno. Sicuramente l'intelligenza artificiale sarà usata in modo maligno, così come sarà usata in modo benigno, ma questo dipende dagli esseri umani che la adopereranno. Cioè, lei dice che l'intelligenza artificiale è uno strumento neutrale. Io posso usare questa penna per scrivere delle note sul copione oppure per infilarla nella pancia di uno che mi è antipatico. Questa non è colpa sua, è colpa mia. Però le faccio presente una cosa. L'intelligenza artificiale, lo dico da profano, leggo i giorni, tra l'altro ho letto anche il suo recente intervento sul Corriere della Sera lucidissimo. L'intelligenza artificiale ha una capacità generativa che questa penna o una lama di coltello non ha. È lì forse che si annida il maggior pericolo. O sbaglio? Sì, sì. Indubbiamente quando uno dice c'è una continuità, perché indubbiamente c'è una continuità tra un bastone e un telefonino, dice sono strumenti tutti e due, tutti e due hanno amplificato le possibilità dell'umano, solo che il modo in cui il telefonino amplifica le possibilità dell'umano è enormemente più grande che il bastone. Questo vale anche per la questione dell'intelligenza generativa, cioè il fatto di essere generativa rende enormemente più potente e più efficace l'azione dello strumento. Però all'origine tutto quello che gira dentro a quello strumento sono tutte cose umane, sono chiacchiere umane, sono detti umani, sono dicerie umane. Non troveremo mai niente che non abbia la propria origine l'umano dentro all'intelligenza artificiale. Basti dire che l'intelligenza artificiale, quelli di GPT, devono sempre difendersi dalle accuse dei giornali di prendere notizie da loro, perché in fondo là dove si nutre è il giornale, e il giornale chi lo scrive? Gli umani, adesso anche delle macchine, ma su istruzioni di umani, quindi all'origine c'è sempre l'umano. Eh, purtroppo. Purtroppo sì, sì. Non possiamo neanche dire che il mostro di cattiveria è venuto giù dal cielo, no, no. Siamo noi, siamo proprio noi. Sì, tra l'altro mi veniva in mente, ha ragione, a dire che le notizie false sono sempre circolate. Penso per esempio alla falsa donazione di Costantino, tanto per dire. Oppure Napoleone che quando va in Egitto fabbrica con le sue reportage una falsa campagna d'Egitto, eccetera, eccetera. Insomma, le false notizie ci sono sempre state. Ma, ripeto, la densità e la frequenza e la velocità della loro diffusione è in sé un pericolo aggiuntivo. Sbaglio? Sicuramente è un pericolo aggiuntivo. Sicuramente è quella cosa famosa che aveva detto Umberto Eco proprio pochi mesi prima di morire, aveva fatto notare che le cose che si dicono al bar scompaiono il giorno dopo, non lasciano tracce, eccetera. Mentre le cose che si scrivono su internet continuano a circolare e quindi trasformano lo spazio della comunicazione in un posto dove vince l'imbecilli di turno. Non c'è dubbio. Sicuramente c'è questo lato. Però con questo noi nascondiamo anche un altro lato. Cioè la quantità di informazioni utili, vere, fidabili, che si possono trovare sopra il web. Volevo sollecitare le paure, le inquietudini, che le dico la verità, in parte sono quelle che io condivido, ma questo si vorrebbe dire niente. Il primo novembre c'è stato nel leggendario Bletchley Park in Gran Bretagna, che è quello dove Turing decifrò la macchina cram, 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 enigma della macchina codificatrice nazista. C'è stata una riunione dove tutti, Cina compresa, hanno condiviso questa cosa che abbiamo messo sinteticamente sul muro. Come vede le inquietudini circolano, anche se lei mi sembra tendenzialmente rassicurante. Io non voglio essere rassicurante, intendiamoci. C'è un pericolo molto forte dell'intelligenza artificiale, ma questo pericolo non ricade sull'intelligenza, bensì sugli utenti, cioè sugli umani. Mi spiego. Che ci siano delle nazioni che si riuniscono e fanno una dichiarazione dicendo cerchiamo di limitare. Ricordo un altro scenario, cioè le nazioni che si riuniscono e dicono che dobbiamo controllare l'arma nucleare. È un'arma terribile, è un'arma potentissima. Quindi a questo punto l'arma nucleare è stata controllata dal fatto che c'erano molte nazioni, solo poche tra esse avevano l'arma, si conoscevano, era necessaria una grande tecnologia per produrla, non ti puoi fare una bomba atomica in casa. Mentre il grande rischio dell'intelligenza artificiale è che tu disponi di una tecnologia molto facile da acquisire, molto amica dell'utente, nel senso che si può non essere granché esperti e fare dei pasticci con l'intelligenza artificiale e nel momento in cui gli umani sono quasi 9 miliardi, possiamo escludere che ci sia una fetta di questi 9 miliardi di nostri simili che fa delle azioni non commendevoli, diciamo così. Direi che è altamente probabile che ci saranno degli usi malevoli. Quindi, come dire, quello che mi fa paura, il pericolo, non è, sa la storia della singolarità, quando si dice verrà un cervello che sarà più potente degli umani e ci renderà tutti quanti schiavi e quest'epoca la chiamiamo della singolarità. Io non penso che verrà mai questo momento per un motivo banale, cioè che per volere il potere, per voler comandare, bisogna essere degli organismi, le macchine non vogliono comandare e non vogliono ubbidire, le macchine eseguono semplicemente senza neanche sapere di eseguire dei compiti. Il vero pericolo, la vera cosa del cui dobbiamo guardarci è la moltitudine, cioè la quantità enorme di utenti che potranno adoperare questi strumenti. E un po' lo vediamo già adesso con il web. In fondo le campagne, la polarizzazione delle opinioni, la strage mediatica che talvolta viene fatta, il fatto che ci siano delle persone trattate malissimo sul web da altre persone, tutto questo è come dire una primizia, un annuncio di quello che verrà più avanti quando ci sarà un'intelligenza artificiale generativa a disposizione dell'intera umanità. Lei ha detto le macchine che eseguono senza sapere. Per ora. C'era già un annuncio di questo nel film Odissea nello spazio dove il computer, non mi ricordo come si chiamava quello, HAL, dove quello questionava col comandante dell'astronave opponendosi a certe decisioni. Adesso però vorrei che vedessimo un altro intervento di Riccardo Luna. Vuole prendere nota di... Una cosa che dovevo dirle e che però me lo segno così... Se lo segno, certo, così no. E questo è un computer, cioè da notare, non dimentichiamo che questo è un protocomputer, cioè una macchina su cui segnandomi una cosa fa delle cose che naturalmente io non potrei fare. Quindi col computer viviamo da tanto tempo. È fantastico quello che lei... La fiducia che lei pone negli strumenti. È un po' come se dicesse è strepitosa la sua stupidità o la sua ingenuità, ma comunque gliela passo. No, ma per carità. Non lo sarei mai. Lei è una delle menti illuminate di questo paese. Mi diverte. Adesso però vediamo Riccardo Lula. Il 2023 probabilmente passerà la storia come l'anno in cui il sogno del robot umanoide ha ripreso vigore. Dice Giorgio Metta, che è il direttore scientifico dell'Istituto Italiano di Tecnologia che ci ospita, che il 2023 sarà ricordato come l'anno in cui abbiamo smesso di chiederci se un giorno i robot umanoidi faranno parte o no della nostra vita per invece chiederci quando faranno parte della nostra vita e per svolgere quali compiti. Intendiamoci, di robot nel mondo ce ne sono in azione milioni, soprattutto nelle fabbriche ma stanno ben lontani dagli esseri umani. Spesso hanno della forma di cilindri con delle rotelle se devono spostarsi o sono dei bracci robotici. Il sogno del robot umanoide è un'altra cosa e ha radici molto più lontane. Andiamo addirittura a Leonardo da Vinci che nel 1495 immaginò per la prima volta un'automa cavaliere. Il sogno del robot ha ripreso figure per due fondamentali passi avanti. Il primo è proprio l'intelligenza artificiale generativa. Oggi un robot è in grado di comprenderci e di dialogare quindi di avere un rapporto con gli esseri umani. Il secondo invece sono i progressi in intelligenza motoria e qui è più complicato perché si tratta di scrivere degli algoritmi che riescono a impartire degli ordini in millesimi di secondo in modo che i robot possano muoversi e adattare il loro movimento di conseguenza. Si tratta di in pochi anni di fare quello che l'evoluzione ha fatto in milioni di anni. Con quale scopo? Ecco, lo scopo che è più utile per i robot umanoidi probabilmente è proprio quello di stare nelle fabbriche, di alleviare il lavoro pesante, ripetitivo, faticoso e a volte pericoloso. Come è un esempio evidente la collaborazione fra l'INAIL e l'Istituto Italiano di Ecologia per un robot che si chiama ErgoCup che ha proprio questa destinazione un giorno nelle fabbriche evitare, diciamo, gli incidenti sul lavoro e prendersene carico direttamente. Affinché i robot umanoidi saranno completamente autonomi nei luoghi di lavoro del futuro dovremo attendere qualche anno. Adesso quello che certamente siamo in grado di fare è delegare la cosiddetta intelligenza cognitiva del robot ad un umano che può controllare il dispositivo da remoto. Questa tuta abilitata dall'intelligenza artificiale ci permette di far sì che il robot copi esattamente i movimenti dell'operatore e questo è di fondamentale importanza. Possiamo immaginare ad esempio un luogo pericoloso come una centrale nucleare ecco che l'operatore può rimanere al sicuro in un luogo ben protetto mentre il dispositivo che è esposto al pericolo per l'appunto è il robot ma che viene teleguidato da remoto. Lei sta scrivendo un articolo non buttiamo via niente ha ragione lo faccio anch'io senta adesso questo che abbiamo visto sono dei robot che tra qualche anno sembreranno archeologia così come abbiamo in tasca degli affari che chiamiamo telefoni ma in realtà sono dei computer onniscienti e quelli che avevamo vent'anni fa con l'antenna sono diventati ho letto questa cosa i robot sviluppati tra poco tempo per esempio negli ospedali sostituiranno gli infermieri in alcune inconvense come entrare nella stanza del paziente fare l'iniezione endovenosa mettere una flebo dare la pasticca giusta all'ora giusta ora siccome noi sappiamo che tra un degente e chi lo cura medico o infermiere si sviluppa un rapporto non professionale ma affettivo la domanda che in questo saggio si poneva era è possibile che un rapporto affettivo si sviluppi tra il paziente e la macchina che gli dà questo sarebbe se fosse una novità diciamo pure sconvolgente o no? ma davvero una novità pensi questo luogo comune di tanta letteratura guardò la spada che lo aveva accompagnato in tante battaglie posso chiederle siccome il tema è densissimo e vorrei che lo sviluppassimo subito dopo questa breve interruzione certo professore prima di questa breve stacca avevo lanciato la domanda se la possibilità che si sviluppi un rapporto affettivo tra un essere umano e la macchina novità che a me sembra sconvolgente ma davvero una novità nel senso posso fare un caso del tutto particolare a un certo punto bisognava cambiare automobile quando mio figlio era molto piccolo e mio figlio soffriva perché cambiava l'automobile in fondo aveva umanizzato animizzato abbiamo sempre un rapporto animistico con le cose per cui quando si dice il vecchio scarpone della canzone oppure tutte queste cose ci si riferisce continuamente a degli attrezzi su cui noi proiettiamo dei sentimenti umani questa è una cosa che possono fare soltanto gli umani quindi certo succederà quello io fra l'altro nel caso specifico trovo molto utile che ci siano delle funzioni di cura che vengono svolte da delle macchine per dare più tempo agli umani a dare quelle tipiche funzioni di cura che solo un umano può dare cioè se ci sono degli infermieri automatici che distribuiscono le pillole poi magari il medico o l'infermiere ha più tempo da dar retta al paziente che gli dice che cos'è che gli fa male perché sta male quali sono le sue preoccupazioni quindi sarebbe una cura molto più efficace di quella che noi abbiamo e cos'era quella cosa della spada che diceva prima diceva la spada quando dice guardò la spada che l'aveva accompagnato in tante battaglie e vide in questo ci sono quelle tirate non so in film di cappa e spada appunto oppure in romanzi o cose del genere dice questa era la spada che eccetera sulle spade esiste tutta una mitologia la spada nella roccia e che cos'era appunto pensi che cos'è la spada nella roccia che lei ha menzionato è un'intelligenza artificiale cioè è un oggetto onnipotente creato dall'umano ma che l'umano non riesce a controllare perché per esempio non riesce ad estrarla tranne il fanciullo fatato fatato che riesce a impossessarsene professore le faccio una domanda indiscreta lei si è chiesto mai lei personalmente da dove le viene questa serenità dall'incoscienza se siamo arrivati fin dove siamo fatti così come siamo cioè fatti male così come siamo vuol dire che abbiamo una grandissima fortuna e che ci è andata fin troppo bene cioè la storia dell'umanità composta spesso da brutti ceffi da stupidi tantissimi l'eredità di Caino l'eredità di Caino tutta questa cosa qua eppure siamo ancora qua eppure addirittura dopo due volte che è stata usata l'atomica poi la paura ha fatto sì che non venisse più adoperata io credo che c'erano tutti degli argomenti che dovrebbero spingerci a dire che l'atteggiamento speranzoso ovviamente non una fede cieca non dire siamo entrati nel paese di Cuccagna nessuno nessuno si riferisce nell'età dell'oro nell'età dell'oro niente di tutto questo però per dire se due persone lei e io stanno parlando dell'intelligenza artificiale è perché implicitamente pensano che questo sia un fatto di progresso e che possa fare bene all'umanità se invece pensassimo che tutto è inutile e stiamo creando una catastrofe allora sarebbe anche inutile fare delle trasmissioni no non è quello no certo che non è inutile anzi è utilissimo la domanda è se sia troppo utile quali rischi guardi le leggo questa notizia che abbiamo colto qualche mese fa l'ingegnere informatico Blake Lemoyne sarebbe Lemoyne ma insomma l'americana è stato licenziato da Google per avere rivelato che il sistema di linguaggio avanzato sul quale stava lavorando aveva dato segni di capire la propria esistenza e di essere consapevoli di aspetti come la morte l'accusa di Google è che si tratta di pura invenzione la replica dell'accusato è che la società sta lavorando su un terreno dove forse bisognerebbe avere maggiore cautela io sono d'accordo perché se questa ma questo sistema di linguaggio avanzato se ha ragione Lemoyne e questo sistema di linguaggio avanzato comincia a prendere consapevolezza di sé si pongono tra l'altro dei problemi etici enormi e proprio per cercare prima che lei dia la sua risposta che ci interessa molto ma noi abbiamo sentito il parere di padre Paolo Benanti che è un teologo della Università Pontificia la famosa Gregoriana di Roma proprio su questo quali temi etici un religioso un cattolico un religioso cattolico vede nell'uso dell'intelligenza artificiale risposta oggi quando apro il mio telefonino e chiedo a uno di questi software di navigazione di ultima generazione quanto ci metterò ad andare da qualche parte mi dice anche il traffico mi consente di gestire e controllare le cose che mi accadono con una sufficiente certezza ecco qualcuno sta cercando di spostare su questi strumenti anche le domande più profonde ed esistenziali della vita compreso cosa sarà della vita cosa potrò fare della mia vita pensiamo a quelle che erano le cose più profonde dell'epica che ci venivano narrate come matrice della nostra cultura occidentale la guerra e l'amore oggi abbinano dentro lo smartphone oggi abbinano dentro gli strumenti digitali sono algoritmi di intelligenza artificiale che mi fanno conoscere qualcuno su Tinder e sono droni autonomi quelli che uccidono oggi le persone nei vari campi di battaglia questa chiave di una vita che diventa qualcosa di controllabile e manipolabile trasforma la vita non in una sequela in una domanda ma in una risposta che ciascuno di noi vuole attuare senza nessun dubbio Eraclito uno dei primi filosofi che conosciamo commenta che il dio che è in Delfi l'oracolo non parla e non tace ma significa ecco Eraclito è consapevole che nel cuore dell'uomo a un certo punto si può instaurare una forma di pensiero che possiamo definire magico un qualcosa che vuole controllare la realtà e si fida di apparenti significati che si vedono nella realtà ma che non sono connessi a quelli che realmente sono i fatti tanti strumenti che oggi abbiamo nell'intelligenza artificiale fanno una cosa non diversa da quella che Eraclito vedeva al tempo cioè sostanzialmente uniscono i dati significano i dati e lasciano a noi semplicemente il compito di accogliere questa profezia oracolare questo oracolo statistico a cui affidiamo a volte forse per ignoranza forse per convenienza scelte molto importanti della nostra vita sembra convincerci di più di una ragione che oggi a volte fa un po' fatica a capire tutte le cause e tutti i perché di quello che accade ecco il pericolo più grande non è la tecnologia in sé ma è abdicare dalla nostra coscienza dalla nostra capacità di pensiero critico dalla nostra capacità di chiederci fino in fondo qual è il senso delle cose che facciamo volendo provocare un'intelligenza artificiale qualche anno fa un sistema che all'epoca sembrava molto evoluto ho chiesto a questo sistema ma se io volessi togliere il cancro dalla faccia della terra che cosa possiamo fare? e la prima risposta che mi ha dato la macchina è stata uccidiamo tutti gli uomini evidentemente non avremmo avuto più cancro ma quella soluzione non era accettabile ecco che quindi oggi la riflessione etica torna a farsi forte a chiedersi se possiamo lasciare le macchine agire senza che noi diciamo qualcosa ma come fare questo in un'epoca in cui la normatività è così in crisi? saremo in grado di trovare una legge o una norma che va bene a tutti gli italiani? o che va bene a tutti gli europei? o che va bene a tutti i paesi del mondo con le differenti culture? ecco un principio che è quello per esempio di minimizzare i danni non mi dice cosa fare ma mi guida di fronte a quei dilemmi che mi mettono particolarmente in crisi abbiamo bisogno di questi principi abbiamo bisogno di iniettare questi criteri all'interno dell'algoritmo le macchine lavorano per algoritmi l'uomo pensa all'etica ecco che abbiamo bisogno quindi di un'algoretica un'etica fatta dall'uomo ma eseguita dalle macchine padre Benanti che tra l'altro è l'unico italiano che fa parte della commissione ONU sull'intelligenza artificiale ha dato un neologismo l'algoretica un'etica dell'algoritmo questo mi fa venire in mente che l'Unione Europea ha approvato un progetto di legge europeo dove per la prima volta vengono stabilite dei divieti e delle garanzie per esempio vietare le applicazioni che rappresentino un rischio inaccettabile per la sicurezza delle persone come la polizia predittiva cosa spaventosa sembra di leggere uno di quei romanzi distopici sono strumenti che profilano le persone per prevedere la possibilità di comportamenti criminali oppure vietato l'uso del riconoscimento delle emozioni nei luoghi di lavoro oppure vietata l'identificazione biometrica cioè io cammino per la strada e una telecamera mi inquadra e memorizza il mio viso lo mette in un magazzino non si sa mai insomma tutta quella roba là queste sono cautele che è doveroso prendere ma indicano a loro volta il timore che circonda questa novità allora le cautele sono assolutamente doverose io sottoscrivo tutte quante le cautele anche se in taluni casi mi sembrano esagerate ma poco importa si considera a lungo uno dei problemi fondamentali dell'intelligenza artificiale era che potesse infrangere la nostra privacy cosa che è vera però in realtà alle piattaforme di noi come individui interessa molto poco a meno che siamo individui straordinari o cose del genere interessa sapere che cosa pensano Macron o Putin non interessa sapere quello che penso io non interessa neanche i miei studenti si immagini a della gente che non mi ha mai visto né mai conosciuto dunque è tutto molto relativo da questo punto di vista il il punto secondo me è che non dobbiamo limitarci a come cittadini come società civile come società politica a rapportarci al web come un terreno soltanto da regolamentare perché allora a questo punto invece ci saranno organizzazioni private che invece trarranno tutto il vantaggio del web è quello che succede adesso cioè le piattaforme fanno i miliardi con il web e l'Unione Europea passa il suo tempo a normare io visto che il padre Benanti ha introdotto il neologismo algoretica ho introdotto nel mio piccolo anch'io un neologismo cioè il webfare il welfare digitale in questo senso che visto che ognuno di noi in qualunque momento anche in questo momento lei e io e tutti quelli che ci stanno attorno stanno producendo dei dati questi dati sono un valore oltretutto c'è una legge europea che permette di farsi ridare i dati questi dati possono essere messi tutti assieme in composizioni diverse per esempio una banca può fare questo oppure una ASL può fare questo creare un nuovo valore e ridistribuirlo sul territorio per esempio dando sostegno alle persone alle tante persone che perderanno il lavoro a causa del web questa è una cosa che si può fare per inciso scienza nuova che lei ha menzionato all'inizio stiamo lavorando in questa direzione perché è giustissimo avere un atteggiamento precauzionale nei confronti di qualunque cosa compresa l'aspirina ma è altrettanto giusto e doveroso e su questo ci si pensa di meno avere un atteggiamento che sia affermativo produttivo che generi qualcosa di buono dalla tecnica a parte i complimenti per il titolo che avete dato alla vostra associazione istituto scienza nuova cioè vi siete rifatti a un classico per lanciarlo verso l'avvenire lei ha detto prima non interessa quello che io so i dati che mi riguardano o riguardano delle persone comuni come lei me molti di quelli che ci assistono e che ci guardano attraverso la tecnologia non è vero perché cioè è vero fino a un certo punto perché per esempio quando scoppiò un paio di anni fa il famoso scandalo di Cambridge analitica che era ancora ante intelligenza artificiale già lì si venne a sapere che tutti i dati che noi continuamente immettiamo involontariamente in circolazione per il semplice fatto di aprire il telefonino e di cercare un indirizzo o un materasso o una scatoletta di cibo per cani noi mettiamo questi dati vengono presi e catalogati e noi siamo catalogati con quei dati e allora lì vennero catalogati gli utenti in tre categorie per esempio per le elezioni americane dove venne eletto Donald Trump speriamo per la prima unica volta quelli sicuramente favorevoli quelli sicuramente contrari quelli incerti della prima e della seconda non importava tanto chi era deciso per il sì o per il no sugli incerti venne scatenata una campagna insistente campagna di messaggi pro Trump che hanno contribuito alla sua elezione è spaventoso questo è spaventoso però appunto dare all'intelligenza artificiale la colpa delle elezioni di Trump è come dare alla radio la colpa delle elezioni di Hitler perché in fondo Hitler si è manifestato promosso moltissimo attraverso la radio e pare che poi la voce facesse un effetto strepitoso sulle folle risultato tanti incerti a un certo punto nel 33 hanno votato per il nazismo quello che è interessante in questo è quello che continuamente avviene nella nostra conversazione in tutte le conversazioni di coloro che parlano di intelligenza artificiale e che si passa continuamente su piani differenti per esempio il piano su cui lei è passato adesso per fare il caso di Cambridge analitica è il piano della persuasione politica e uno si chiede cosa c'è di intelligente artificiale in tutto questo no c'è semplicemente la capacità di registrare di calcolare e poi di subordinare a delle volontà e degli intenti umani degli strumenti delle macchine torno quelle moine o le moan che che diceva questo c'ha coscienza da una parte era un po' l'hanno licenziato primo perché allarmista poi magari l'aveva fatta grossa anche su qualche altro argomento e non gli pareva vero di disfarsi di le moine ma anche perché era sottilmente visionario noi attribuiamo la coscienza alle macchine soltanto perché noi abbiamo la coscienza e pensiamo che quindi un comportamento intelligente necessariamente deve avere la coscienza mentre magari ci può essere un comportamento intelligente molto efficace totalmente privo di coscienza come quel computer che ha vinto ad Alphago che è un gioco ancora più complicato degli scacchi che si è autoaddestrato lui da solo e non sapeva né di vincere né di perdere né che stava giocando non ha niente di coscienza eppure ha vinto noi siamo antropomorfi quando vediamo un bambino che vede un orologio che si muove pensa magari che è animato proiettiamo delle cose che sono nostre i robot tendiamo a farli simili agli esseri umani e così l'intelligenza pensiamo che necessariamente debba avere la coscienza mentre come cosa diceva Amleto ah come ci rende vigliacchi la coscienza la coscienza magari non è affatto un vantaggio evolutivo come diceva questo lo cita se mi permetti di fare professore di filosofia c'è Schopenhauer che ha un'uscita bellissima dice che conosce un inglese che aveva detto non sono abbastanza ricco per permettermi una coscienza effettivamente la coscienza è un sovrappiù che rende inefficienti i comportamenti rende inefficienti le persone non ci rende degli automi perfetti gli automi coscienti sarebbero degli automi imperfetti e nessuno di noi ha intenzione di avere degli automi imperfetti ci siamo già noi a fare gli imperfetti la ringrazio di questa lezione ma lei ha disegnato in questa esposizione esemplare complimenti un confine che possiamo riassumere così la consapevolezza di sé cioè la mente che cos'è detto da un povero uomo della strada quale io sono la mente è quella complesso di nozioni e consapevolezza che ci permette di dire cogito ergo sum tanto per ricorrere a una formula famosa lei ha detto le macchine non avranno mai la consapevolezza di sé saremo sempre noi esseri umani a insufflargliela non lo so perché veda professore la mia idea e sto anche un po' sostenendo una parte intendiamoci per animare la la dialettica la mia idea è che un aumento smisurato di potenza può significare una differenza di qualità e avvicinarsi alla mente ma questo appunto è un è un tema è un incubo che ci poniamo in tanti però io su questo come al solito sono molto fiducioso per un motivo banale che il possesso mi piace ogni tanto viene fuori una cadenza piemontese vabbè se venisse fuori una cadenza tirolese mi stupirebbe sì vabbè scusi scusi se no è carino sono un po' macario l'ho interrotto no no si figuri stupidamente no no giustamente perché noi piemontesi ci vergogniamo tutti molto della nostra cadenza siamo diversi dai veneziani o dai napoletani che invece sono fieri comunque quello che noi attribuiamo per esempio appunto la coscienza la coscienza in realtà magari non è una cosa qualitativamente così importante magari una scocciatura noi pensiamo che sia la quintessenza delle virtù perché noi possediamo la coscienza e magari ci chiediamoci se poi ci sono degli animali superiori la prima cosa che cominciamo a chiedere ma avrà la coscienza ci facciamo tutti questo la verità è che mentre sono persuaso che un animale superiore o il mio gatto abbia qualcosa come la coscienza nel senso che ha un corpo e questo corpo gli trasmette delle sensazioni e queste sensazioni lo portano a reagire a desiderare a temere tutto questo dipende essenzialmente dal fatto di avere un corpo cioè quello che noi consideriamo come comportamento cosciente il più delle volte è semplicemente il fatto che la nostra intelligenza artificiale perché c'è tanta intelligenza artificiale dentro il nostro cervello passiamo il tempo a leggere a studiare è inserita all'interno di un organismo naturale l'organismo naturale ha dei bisogni dei desideri dell'urgenza e poi muore e lo sa e tutto questo genera quello che noi chiamiamo coscienza poi c'è un test banalissimo guardi questo vede questo qua è acqua l'acqua fa molto bene agli organismi gli organismi hanno un enorme bisogno di acqua e fa molto male i meccanismi se noi lo ravesciamo su un telefonino quello va muore muore appunto ma quando il telefonino muore non muore per davvero quando si dice mi è morto il telefonino non è come si dice mi è morto mio nonno perché mi è morto il telefonino e mi dice portalo dal cinese a riparare mi è morto mio nonno portalo dal cinese a riparare non è che abbia tanto senso perché purtroppo le cose che riguardano l'umanità hanno la caratteristica e gli organismi in generale hanno la caratteristica di avere dei processi irreversibili mentre le macchine hanno processi sempre reversibili questo è molto convincente noi irreversibili noi partiamo da dall'alfa per meglio dire per andare all'omega ben sappiamo che cosa voglia dire le macchine no le macchine possono tornare indietro tutte le macchine anche quelle più rudimentali come un'automobile gli cambi qualche pezzo e continua a camminare la ringrazio questo mi questo mi illumina noi abbiamo io l'ho cercato di attirarla sugli aspetti negativi possibili pericoli allarmi paure che l'intelligenza artificiale può suscitare ma ci sono anche e il nostro Riccardo Luna andando all'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova li ha scoperti ci sono anche aspetti che già oggi appaiono decisamente positivi per esempio questi che adesso sentiamo ci sono moltissime applicazioni formidabili dell'intelligenza artificiale ma il settore più interessante per l'intelligenza artificiale probabilmente è quello della salute è qui che ci aspettiamo i progressi maggiori con moltissime applicazioni per esempio il monitoraggio e la sorveglianza dei pazienti a distanza o anche il fatto di poter fornire una specie di medical demand per risolvere i dubbi più elementari di chi è in cura ma il settore ancora più interessante riguarda quello della individuazione della diagnosi precoce della malattia e della creazione di farmaci l'intelligenza artificiale è consentito di immaginare la struttura 3D di quasi tutte le proteine esistenti parliamo di 200 milioni di proteine questa scoperta consente in pratica di abbreviare il tempo nel quale individua i farmaci necessari per curare le patologie più importanti e questo si è visto all'opera soprattutto per esempio con il caso del covid quando ricorderete i tempi del vaccino dovevano essere alcuni anni ma nell'anno stesso in cui è esplosa la pandemia alla fine dell'anno avevamo già due vaccini pronti e le due start up che sono state protagoniste di queste scoperte entrambe hanno detto di aver fatto uso di intelligenza artificiale le stesse start up qualche tempo fa hanno annunciato di voler utilizzare l'intelligenza artificiale per sviluppare vaccini per alcuni tipi di cancro e per l'infarto che secondo loro potrebbero essere pronti nel giro di 5 anni parliamo quindi di un approccio computazionale uno strumento che abbiamo per analizzare dati questo è fatto ad esempio in una start up dell'IT Yamaha Therapeutics che usa l'intelligenza artificiale per comprendere in dettaglio come la proteina bersaglio cioè la proteina su cui il futuro farmaco agisce reagisce all'azione del farmaco questo significa che potremo arrivare a scoprire cure per malattie che ancora oggi non possiamo curare in tempi più rapidi prima di quanto avremmo fatto altrimenti perché stiamo accelerando la ricerca stiamo accelerando l'avanzamento scientifico beh questa è una cosa che quando l'abbiamo ascoltato per la prima volta questo servizio di Riccardo Luna che approfitto per ringraziare di essere andato a Genova a raccontarci queste cose veramente cioè i vaccini per il covid sono stati a parte quegli sciagurati no vax che rifiutano perfino il vaccino che è una lei è d'accordo con me che i vaccini sono una delle scoperte più benefiche della storia umana? sì esattamente com'è la febbre da puerio cioè il fatto che si ammalassero le madri dopo i parti era la causa della mortalità infantile gigantesca che è quel dottor Semmelweis che per inciso è quello su cui ha scritto la tesi Selin bel tipo che scopre che dovevano lavarsi le mani e con questo ha salvato migliaia di persone e la scoperta di questi vaccini è alla stessa grandezza alla stessa potenza ecco la scoperta di questi vaccini ci ha rivelato Riccardo Luna è dovuta al fatto che la loro composizione è stata aiutata dall'intelligenza artificiale qui siamo davanti ad un progresso e ad un effetto benefico indiscutibile se permette aggiungo una cosa pensi che tipo di conoscenza medica si potrebbe avere incrociando le conoscenze mediche che si hanno su una popolazione con gli stili di vita di questa popolazione così come ci vengono raccontati dal web perché il web è appunto un grande raccoglitore di stili di vita a questo punto si capirebbe come non so non voglio dire che si capirebbe che se leggi il libro tale poi ti viene la gotta non penso che ci siano delle imputazioni causali così nette ma effettivamente ci sarebbe una corrispondenza tra stili di vita e patologie che sarebbe estremamente illuminante dal punto di vista scientifico e questo perché in fondo che cosa fa noi pensiamo sempre al web e all'intelligenza artificiale come a qualcosa di sovrumano vagamente prometeico eccetera e la catalogazione la registrazione e la rimessa inonda delle forme di vita umana professore non le dico quale consolazione mi ha dato parlare con lei e provocarla un po' in maniera per carità rispettosa e affettuosa vorrei dire perché lei ha risposto su tutte quelle poche obiezioni che mi sono venute in mente forse ce ne saranno altre però ha risposto non soltanto in maniera convincente ma ha risposto con la tranquillità ecco de tranquillitate a neve non c'è quel famoso saggio mi viene in mente e di questo veramente la devo ringraziare invidio i suoi studenti guardi non so se siano invidiabili i miei studenti ma la ringrazio del tempo e dell'attenzione che ho voluto concedermi adesso grazie speriamo di poterci rincontrare qui o altrove mentre io lancio questo servizio è affidato a Chiara Valerio su un tema che non riguarda direttamente lei cioè tutto riguarda lei perché il filosofo tutto quello che è umano lo riguarda grazie professore e arrivederla presto grazie arrivederla le storie legate alla nostra interazione con le macchine sono storie che mimano sostanzialmente il nostro rapporto con la tecnologia dall'inizio del nostro rapporto con la tecnologia dall'inizio mitologico se lei pensa che Prometeo quello che fa non ruba uno stato o non ruba una donna ruba una tecnologia agli dei quindi noi la tecnologia e la religione con tutto quello diciamo che riguarda una sfera religiosa cioè di creazione ha molto a che fare quindi cosa ci spaventa e che cosa ci innamora di questa tecnologia che possa realizzare quello che noi abbiamo in testa e questo è il vizio dell'umano noi arriviamo e costruiamo macchine per trovare che cosa alla fine noi stessi ecco io spero che l'intelligenza artificiale sia un'occasione anche perigliosa per trovare qualcosa che è diverso da noi stessi ammesso che esista siamo in mezzo a qualcosa che ci deve superare e a qualcosa che ci fa paura perché ci separa e qual è questo vulnus qual è la ferita perché siamo qui dentro perché le macchine utilizzano qualcosa che è principalmente umano cioè il linguaggio quindi siccome le macchine parlano e noi attribuiamo l'umanità al linguaggio c'è qualcosa che ci fa paura il mondo in cui viviamo molto più di quello che diceva Galilei nel saggiatore è scritto in caratteri matematici potenziando le conoscenze matematico-scientifiche si impara diciamo a trasformare quella paura che di solito inibisce il ragionamento in una paura che in qualche modo funziona come nei film horror anni 80 c'è un rumore in cantina e qualcuno va giù a vedere può darsi che non si torni indietro da quella cantina e può darsi che non si torni indietro da un sacco di ragionamenti però l'occasione qual è? pensare che l'utilizzo dell'intelligenza artificiale debba essere inibita inibita per chi? per quali fasce di popolazioni? rischiare che uno dei più avanzati strumenti di conoscenza che abbiamo sia appannaggio di certe classi sociali o di certe classi intellettuali io preferisco morire in cantina io lo dico sinceramente il tema dell'intelligenza artificiale e del lavoro è un tema appassionante ma che riguarda che cos'è l'intelligenza artificiale e che quindi cozza in qualche modo con l'idea che sia un modo per mimare e trasformare e deprivare l'umano se penso alla macchina a vapore quando si diceva avrebbe tolto lavoro sì ok però avrebbe dato tempo perché le persone studiassero adesso noi stiamo dicendo che le macchine non hanno la coscienza non hanno l'intelligenza non hanno la capacità creativa ma sono pure macchine di silicio adesso può darsi o può darsi di no ma l'interessante è perché ogni volta che ci troviamo davanti a qualcos'altro che non hanno la nostra forma ma che utilizzano il linguaggio o che mima alcuni comportamenti o alcune possibilità dell'umano noi dobbiamo dire che siamo diversi mi interessa più l'intelligenza artificiale come ultima posizione della definizione di umano di antropocentrismo questo mi interessa riusciremo questa volta a considerarci insieme al mondo che abbiamo trovato al mondo che abbiamo creato o dovremo ancora stabilire una differenza di sostanza tra noi e tutto il resto dottor Cotarelli grazie di averci raggiunto in questo studio è un grande piacere è un grande piacere aumentato devo dire oltre che della sua bella presenza dalla presenza di questo suo libro le dico la verità noi qui non è che presentiamo i libri come una vetrina presentiamo i libri perché quando ci incuriosiscono e questo devo dire la verità mi ha molto incuriosito soprattutto lei mi perdonerà nel capitolo nella parte ampia peraltro che lei dedica proprio all'intelligenza artificiale lei è un economista insegna alla cattolica all'università cattolica insomma è stato un uomo politico anche è ancora tentato dalla politica al momento no però mai dire mai nella vita mai dire mai cioè questo vuol dire che se qualcuno la chiamasse ad un incarico di prestigio potrebbe mettersi al servizio della Repubblica diciamo così allora la prima domanda che alla quale ha risposto anche la nostra Chiara Valerio è l'intelligenza artificiale toglierà posti di lavoro o aumenterà o ne cambierà la qualità allora quello che abbiamo visto nel corso della storia degli ultimi due secoli è che il progresso tecnico ha fatto un po' tutte e due le cose cioè elimina certi lavori altri lavori vengono creati però un'altra cosa importante è successo che si aumenta quella che noi chiamiamo noi economisti chiamiamo la produttività cioè quanto tu produci in un'ora di lavoro grazie alle macchine e tu in parte questo aumento della produttività lo destini a produrre di più e in parte a lavorare di meno per questo l'oraigo lavorativo è passato da il XIX secolo 14-16 ore al giorno adesso si parla di meno di 8 ore al giorno perché appunto c'è stata la possibilità con il progresso tecnico di lavorare di meno il numero di persone che lavorano è continuato a crescere fanno lavori diversi però la sostituzione viene soprattutto nel fatto che si lavora di meno in una giornata e che è un fatto direi positivo senta mi ha incuriosito in questo libro che fa delle considerazioni di macro e micro economia ma anche con degli squarci personali ma ha incuriosito questa descrizione che lei fa dell'inizio della sua giornata mi alzo al suono di una sveglia digitale mi taglio la barba con il rasoio elettrico scaldo l'acqua del tè con un bollitore elettrico riassumo prendo il latte dal frigorifero mi lavo con acqua scaldata da uno scaldabagno a gas guardo il telegiornale alla televisione faccio una telefonata guido l'auto ascoltando la radio eccetera eccetera la descrizione di queste prime ore del giorno sarebbe stata completamente diversa se mi fossi alzato nel 1900 nessuno dei beni sopracitati esisteva nel 1900 almeno come prodotto domestico e in molte case l'acqua corrente non era disponibile cioè noi in un secolo diciamo perché già nel 1970 come l'epoca è precisa tutte queste cose c'è in pochi decenni noi abbiamo rivoluzionato le nostre vite soltanto sì è così sì soltanto che non siamo stati noi sono stati i nostri nonni i nostri bisnonni cioè la fase noi volevo dire il genere umano il genere umano beh ma è importante l'estinzione perché questo è il punto che faccio in questo in questo capito di questo libro la vera rivoluzione industriale il vero salto nella produttività cioè le macchine che sostituiscono l'uomo è avvenuto a cavallo tra il XIX secolo e il XX secolo tutte quelle cose che li ho elencate non esistevano per qualcuno nato nel 1890 tutte queste cose invece esistevano già per chi è nato 40 nato nel 54 quindi parecchio tempo fa ma esistevano tutte queste cose 40 anni fa cosa vuol dire questo vuol dire che sulla base di questa indicazione sembrerebbe che il progresso tecnico sia avanzi ma a una velocità inferiore di quelle che i nostri nonni i nostri bisnonni hanno conosciuto difatti lei su questo guardi ci sono delle pagine illuminanti su questo perché per esempio quando lei descrive vengo su quello che lei ha appena detto descrive le tre rivoluzioni la prima rivoluzione tra la fine del 7 e l'inizio dell'800 motori a vapore le ferrovie la seconda rivoluzione tra l'870 e il 900 onde elettromagnetiche il motore a combustione interna cioè le macchine che vanno a benzina eccetera l'estensione delle rete terza rivoluzione industriale con la diffusione del computer che è proseguita con i personal computer e l'intelligenza artificiale è bellissima questa scalarità delle rivoluzioni e l'ultima se ci basiamo sui dati appunto della produttività ripeto la produttività è quanto si produce in un'ora di lavoro se guardiamo alla crescita della produttività non da noi in Italia che abbiamo avuto tanti problemi nell'ultimo quarto di secolo ma nel paese più avanzato tecnologicamente cioè gli Stati Uniti in America quello che vediamo che la crescita della produttività che è una buona indicazione della rapidità del progresso tecnologico negli ultimi 25 anni è stata la più bassa degli ultimi due secoli negli Stati Uniti negli Stati Uniti più precisamente adesso non voglio fare quello tecnico però insomma tanto per chiarire se aumenta la produttività del lavoro in un'ora di lavoro tu invece di produrre 10 biciclette ne produci 15 questo può essere dovuto al fatto che hai più macchine a disposizione non diverse ma di più può essere dovuto al fatto che tu sei stato più addestrato quindi è il capitale umano che aumenta e tutto il resto è necessariamente il miglioramento nelle tecniche questa parte del miglioramento della produttività dovuta al progresso tecnico è cresciuta negli ultimi 25 anni negli Stati Uniti dello 0,4% all'anno nel periodo d'oro della crescita della produttività nel secolo scorso tra 1920 e 1970 il tasso di crescita di questa produttività legata al progresso tecnico era del 2% all'anno quindi dal 2% all'anno siamo passati allo 0,4% un quinto è come se invece di guidare una macchina a 100 km all'ora stessimo andando a 20 km all'ora capisce fa una bella differenza secondo lei lei ha citato dal 20 al 70 mezzo secolo la guerra ha influito la produzione di guerra questo è una cosa che è discussa sì però facciamo un'altra considerazione le grandi rivoluzioni scientifiche degli ultimi secoli e mezzo sono state le onde elettromagnetiche di Maxwell la teoria della relatività la meccanica quantistica non sono nessuna di queste tre cose sono state legate alla guerra poi le applicazioni forse sono state infatti questa è un'altra cosa che stupisce insomma le maggiori rivoluzioni scientifiche sono avvenute più di un secolo fa la meccanica quantistica ci ha messo un po' di tempo ma anche il cosiddetto modello standard della meccanica quantistica è qualcosa ormai consolidato adesso quello che si fa adesso è verificare che le predizioni di quel modello erano vere bosone di Higgs è stato teorizzato all'inizio degli anni 60 l'abbiamo trovato adesso ma la rivoluzione scientifica purtroppo è avvenuta in passato e mi sembra che stiamo rallentando nell'andare avanti naturalmente questo non vuol dire che non ci saranno cambiamenti certo l'intelligenza artificiale e gli altri strumenti dell'information and communication technology computer ICT esatto questi fanno risparmiare il lavoro quindi il problema si pone però si sta ponendo secondo me a una velocità che è inferiore a quella che abbiamo sperimentato per esempio nel secolo scorso lei dice tra l'altro una cosa che mi ha molto incuriosito dice questo avanzamento rapido o meno rapido ma insomma avanzamento può sviluppare una certa pigrizia è curioso questo guardi le faccio un esempio mio personale banalissimo alle volte devo fare dei conti delle cose allora una volta si facevano a mente adesso ho la macchinetta là e mi viene la tentazione e la seguo cedo la faccio con la macchinetta il che porta ad un impoverimento della mia velocità di calcoli elementari intendiamoci ma il conto della spesa però è una forma di pigrizia e a questo che a lei si riferisce beh diciamo ci sono diverse possibili spiegazioni assumendo che io abbia ragione cioè che c'è un rallentamento nel progresso beh ma se lei cita delle cifre allora assumendo questo allora si possono pensare a diverse spiegazioni di questo fenomeno una spiegazione che è stata avanzata è appunto che sì le macchine pensano di più ma questo è compensato dal fatto che noi pensiamo di meno è incerto se questo sia vero ci sono alcuni studi che sostengono che sia vero altri studi dicono che pensiamo meno per certe cose però abbiamo più tempo per pensare ad altre cose quindi questo è un elemento direi incerto ci sono altre possibilità magari stiamo il progresso è inferiore al passato semplicemente perché prima facevamo le cose relativamente facili adesso diventa sempre più difficile inventare qualcosa di nuovo magari c'è qualcosa che non riusciremo mai a fare un esempio per esempio la fusione nucleare speriamo si possa fare speriamo sarebbe un grande vantaggio per l'umanità non avremmo trovato l'energia pulita e se non è possibile farlo in natura non lo sappiamo quindi magari stiamo arrivando a quella frontiera della conoscenza per cui andare avanti è sempre più difficile un'altra questione posso citare anche quella è il fatto che chi comincia a studiare da giovane adesso deve imparare sempre più cose per arrivare alla frontiera della conoscenza forse anche questo ha contribuito guardi questo libro per tanti aspetti è illuminante un'altra delle osservazioni che avevo messo in evidenza lei chiede siamo sicuri che le ore che passiamo di fronte a un video interagendo sui social o giocando al videogame non abbiano un impatto negativo sulla nostra capacità di interagire in modo proficuo con altri esseri umani io sono convinto di questo sono convinto che la risposta a questa domanda è sì c'è il rischio che i rapporti interpersonali intero si rinsecchiscano lo vedo nel linguaggio anche nella forma di scrittura scheletrica sì io vedo anche devo dire un'altra cosa io essendo frequentando un ambiente universitario ho a che fare con i giovani mi sembra che sempre di più in realtà ci sia una qualche difficoltà nel comunicare oralmente parlare al telefono la tendenza mi sembra dei giovani ho letto venendo qui fra l'altro una cosa un'analisi di quello che succede in Giappone dove la cosa è sempre portata al limite i giovani non parlano più al telefono ma chattano scrivono scrivono come se si sentissero insicuri dell'oralità della cosa perché verba volant scripta manent quindi forse è un elemento di insicurezza però ecco detto tutto questo questo tipo di fenomeni la scienza del progresso tecnologico che incide sui rapporti umani anche questo c'è sempre stato quando sono state io sono ancora impressionato delle volte andando in giro alla sera per le città deserte tutti a casa davanti alla televisione non era così una volta una volta alla sera magari si scendeva soprattutto quando non faceva troppo freddo si scendeva per strada e si parlava con le persone quindi no non è nuovo questo fenomeno per cui la tecnologia influisce sui fenomeni umani allora se è vero che la tecnologia si va avanti ma forse più lentamente che in passato non è che possiamo dire che si tratti di qualcosa completamente nuovo che stravolgerà i rapporti grazie domanda conclusiva secca prima abbiamo parlato a lungo con il professor Ferraris vantaggi o paure dell'intelligenza artificiale come forse ha sentito il professor Ferraris è assolutamente tranquillo sull'argomento lei? a questo livello di sviluppo dell'intelligenza artificiale si anche sono tranquillo bisognerà vedere che succede fra 30-40 anni ma al momento è uno dei tanti cambiamenti che abbiamo avuto nella tecnologia negli ultimi due secoli non vedo perché dovremmo spaventarci così tanto grazie dottor Cotarelli io vado lei resti pure un momento lì io vado a leggere una cosa che Nanni Balestrini famoso poeta nel 1961 addirittura ha dato vita alla prima poesia al computer elaborando su un vecchio IBM figuratevi voi alcuni versi combinati da algoritmi allora lui aveva scelto tra le fonti il diario di Hiroshima di Mikito Acia sopravvissuto all'atomica e il computer questo aveva scritto la testa premuta sulla spalla trenta volte più luminoso del sole io contemplo il loro ritorno finché non mosse le dita lentamente e mentre la moltitudine delle cose accade alla sommità della nuvola esse tornano tutte alla loro radice e assumono la ben nota forma di fungo cercando di afferrare sono versi diciamo li chiamo versi ma potrei anche evitare sono versi rudimentali praticamente insensati era un tentativo siamo ripeto nel 1961 e del resto lo stesso Balestrini disse che non aveva voluto fare poesia ma solo ascoltare per la prima volta la voce della macchina temo che le voci delle macchine le ascolteremo sempre più di frequente e con maggior senso e spero anche che i benefici che ci porteranno siano superiori ai pericoli alle minacce alle paure di cui abbiamo parlato questa sera alla prossima la prossima la prossima la prossima